Le attività di indagine dei fondali marini richiedono una meticolosa fase di preparazione, durante la quale si procede sia alla manutenzione e all'aggiornamento degli strumenti già utilizzati, sia all'eventuale progettazione e realizzazione di nuovi prototipi. Tutte queste attività si svolgono nel laboratorio di robotica marina dell'ISPRA. Al rientro dalle campagne oceanografiche tutti gli strumenti devono passare per una fase di manutenzione ordinaria. Vengono quindi smontati, controllati tutti gli elementi critici, quali le tenute idrauliche, le connessioni elettriche e le interfacce, ed eventualmente si può pensare di procedere a sviluppare e realizzare delle migliorie anche grazie alle esperienze raccolte a bordo. In alcuni casi infatti ci si è resi conto che l'illuminazione non era adeguata all'ambiente in cui ci si trovava e si sono realizzate nuove lampade illuminatrici, nuove connessioni, nuove staffe per poterle montare sugli strumenti da utilizzare nelle campagne future.